E' stato il mio vero, 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 vero. E' un'unica grande note, ci siamo lasciati in Mario, un meglio di uno stato, finire bene. E' una occasione per ringraziare tutti i DJ, tutti i vocali, tutti i barati del segno di Ode, tutti gli staff, e anche se il grito è skate, non lo abbiamo fatto, che ci hanno permesso tutto questo. Tutti bene, ragazzi. andrete su moeti기에, anche se il cop ne loiano, qui si è spinto, che si è spinto, che si sono part szczerda, che si è spinto, che si è spinto, Buongiorno a tutti i nostri amici! Buongiorno a tutti!